Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Una scoperta di estremo interesse ha scosso la giornata odierna. Il 21 giugno 2023. E coinvolge il misterioso caso irrisolto di Liliana Resinovich. La donna triestina scomparsa e successivamente trovata senza vita nel gennaio del 2022. Nelle vicinanze di un ex ospedale psichiatrico della stessa città. Oggetti consumati dal freddo e dall'inclemenza del tempo. Quali il frammento di una catenina. Due blister di medicinali e un flaconcino di plastica. Sono stati rinvenuti ai piedi di un albero a pochi metri dal luogo del macabro ritrovamento del corpo inerte di Liliana Resinovich. Nel pomeriggio di martedì. Durante una diretta televisiva su Rai 2. Le telecamere hanno attirato l'attenzione sulla presenza di due confezioni di farmaci abbandonate tra l'erba. Sprofondando nel terreno. Emerge un frammento di una catena color oro. Al fine di identificare i proprietari di tali oggetti abbandonati. Contattano la squadra mobile. E un'ora più tardi giunge sul luogo del rinvenimento la polizia scientifica. A cui viene indicata la precisa localizzazione. Tutti gli oggetti vengono meticolosamente catalogati e, secondo voci di corridoio, si apprende che saranno effettuati accertamenti per rilevare eventuali tracce di DNA su tutto ciò che è stato recuperato. Compreso un misterioso cordino rosso. Forse un cavo elettrico. Le indagini hanno lo scopo primario di determinare la datazione di questi oggetti. Al momento, le ipotesi e gli interrogativi sono numerosi. È possibile che qualcuno sia entrato recentemente nel boschetto per disfarsi di tali oggetti? Potrebbe il pezzetto d'oro appartenere a uno dei braccialetti indossati da Lilli. O forse si tratta semplicemente di una catenina di una borsetta da donna. Per conoscere la verità. Sarà necessario attendere i risultati degli accertamenti della polizia scientifica.